ne faccio una a casa ooooooh beh pur cazzo se vi trovi a vedere questi risultati con un nuovissimo video oggi ragazzi con le due dal titolo giochiamo a bot flip challenge eeeh questo bot flip challenge lo portato in un video pure ma non è come l'altra volta questa è una challenge però questa bot flip challenge non è come l'altra volta questa bot flip challenge è diversa di come l'ho fatta prima io che allora che facciamo che se facciamo 20 giuste che in più in più ragazzi c'è la penitenza che se faccio 20 giuste però però ragazzi c'è la penitenza però però se faccio 20 giuste la penitenza non ci sarà ma se faccio 20 sbagli ci sarà la penitenza ma la penitenza non sarà in questo video eeeh ci sarà in un altro video e la sapete chi me lo fa fare? o mia cugina Giulia o mia cugina Federica e niente ragazzi tra 3 2 1 iniziamo a caso ok ragazzi 3 2 1 sbagliato 1 0 1 sbagliato aspettate secondo sbagliato come? prima prima vincevo ora no terzo sbagliato sbagliato intanto lo sto scrivendo in un po' non me li dimentico 1 a 0 1 0 oh di ragazzi 3 a 3 4 a 3 giusto? no 4 sbagliato sbagliato sesto sbagliato sbagliato ok contava sbagliato novesimo sbagliato scusate sbagliato 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 tredesimo sbagliato 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 quattro quattro sbagliato 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 sbagliato